L'Italia è divisa in 20 regioni e non tutti sanno che in ognuna di queste regioni non si parla soltanto l'italiano ma anche una o più lingue locali o dialetti. La seconda lingua più parlata in Italia dopo l'italiano è il napoletano, la lingua della città di Napoli, della regione Campania e di buona parte, nelle sue varianti, del sud Italia. Oggi chiederemo ai passanti se parlano più spesso l'italiano o il napoletano. Parlate più spesso italiano o napoletano? 50%, 50 e 50. Italiano. Il napoletano in genere. Io il napoletano. Anche io il napoletano. La vedo male. Italiano. Italiano perché la lingua che adoro. In casa abbastanza napoletano, mi piace molto. Fuori sempre solo italiano. Tendenzialmente l'italiano, però essendo napoletana uno slang ci esce. L'italiano, parlo più spesso l'italiano. Non abitando più a Napoli purtroppo non parlo più napoletano correntemente nel quotidiano. Allora, dipende dal contesto. Se sono in un contesto che richiede magari un eloquio più italiano, preferisco parlare italiano. Se sono in un contesto più amichevole, chiaramente il napoletano è sempre simpatica e è sempre bello utilizzarlo in modo opportuno. Italiano anche perché vivo a Milano, quindi diciamo se parlassi napoletano non è che mi capirebbero tanto. Quindi sicuramente parlo più in italiano, però quando ci arrabbiamo ovviamente esce pure il napoletano che in noi. Anche a Milano? Sì, anche a Milano. Allora, quando sono in famiglia o con amici stretti tendo a parlare principalmente il napoletano. Mentre o in situazioni del genere o fuori, a un colloquio di lavoro, in situazioni poco più, meno tranquille diciamo, uso sempre l'italiano. Ma non la sento come una costrizione. Parlo principalmente italiano. Quando sono con amici stretti mi ritrovo più con il napoletano. Mi trovo meglio, è più familiare, sento quasi di poter essere più me stesso nel momento in cui uso il dialetto. Parli più spesso l'italiano o il napoletano? Beh, sicuramente l'italiano, però mi diverto a parlare anche il dialetto napoletano perché riesce ad esprimere dei concetti in maniera molto, molto succinta quando poi nell'italiano ci vorrebbero molte, molte più parole. Invece di che in italiano dire più parole, il napoletano una sola, basta per dire tutto. È più diretto il napoletano. È più sintetico forse. È più sintetico. E in famiglia si parla napoletano o italiano? No, italiano. Italiano, ma anche napoletano, espressioni napoletane, perché la lingua napoletana, come lei sa, è una lingua, non è un dialetto. Io sono per, magari, insegnarla nelle scuole, magari, fare corsi di teatro e di lingua partenopea. Non lo dico io, è stata accertata, è stata dichiarata lingua, quindi non è un dialetto. Non è uno dei dialetti italiani, ma è una lingua a sé stanno, con tante connotazioni ben precise, grammaticali e non. L'italiano lo posso usare ad un convegno, quando sono all'università, quando parlo con un professore, quando sono con dei amici che, comunque, hanno un certo livello di istruzione. Se sono, invece, con dei amici tranquilli, che mi vedo tutti i giorni, che conoscono la vita, qualche parolino in napoletano non posso negare che esce, forse anche qualcuna di troppo. E in famiglia parli italiano o napoletano? In famiglia, abbastanza napoletano. Nei momenti, diciamo, più concitati, anche in modo abbastanza vivace, se no italiano. E facci un esempio, quando parli italiano? Italiano sempre, quindi a scuola, in famiglia, invece, magari, con gli amici, mi sciolgo un po' di più. O quando mi arrabbio in napoletano. Quindi ti arrabbi in napoletano e con gli amici ti diverti in napoletano? A volte, non sempre, sì. Quindi possiamo dire che il napoletano è la lingua più delle emozioni, mentre invece l'italiano è più la lingua razionale per te? Sì, assolutamente sì. Ci spieghi, quando è che parla napoletano? In casa soprattutto. In genere mi pongo in italiano quando ho a che fare con le persone estranei, quando ho a che fare con le persone di famiglia. Parlo più spesso il napoletano. Quindi quando parli il napoletano? Forse nei momenti in cui mi nervosisco e anche quando gioco. Quindi due momenti diversi, però, che poi si incontrano dal punto di vista del linguaggio napoletano. Quando parlate italiano e quando parlate napoletano? In linea di massimo italiano parliamo, parlo, penso anche lui, per il nostro lavoro. Siamo due professionisti. È una consuetudine per me parlare l'italiano, però devo dire che a volte è divertente parlare anche il napoletano, un po' anche come forma di scherzo, appunto, ripeto, quando c'è bisogno di esprimere dei concetti molto succinti che arrivino subito. Sicuramente per gioco, sicuramente quando sono arrabbiata. Allora, in casa col mio bimbo spesso mi lascio andare al napoletano. Fuori sono un pochino più elegante, tra virgolette, quindi sicuramente se vado a fare la spesa parlo bene italiano, per un colloquio di lavoro, sì, decisamente solo l'italiano. Lo sponsor del video di oggi è Italki. Italki è questa piattaforma dove gli studenti di lingue possono trovare degli insegnanti per fare delle lezioni private online. Ci sono tantissimi studenti che ci dicono come riescono a studiare l'italiano anche da soli, riescano a capire quello che sentono, ma che non riescono a parlare in maniera molto fluente, molto veloce, perché non hanno mai fatto pratica. Su Italki è possibile fare proprio questo. Anzi, se andate su www.italki.com slash easyitalian abbiamo riservato una bella promozione per te. Dopo il primo acquisto di crediti Italki avrete in omaggio 10 dollari in crediti Italki. Quindi praticamente prenotando una vostra prima lezione vi saranno dati dei crediti extra per poterne prenotare una seconda. Cosa state aspettando? Andate sul sito e prenotate la vostra prima lezione. Quando è che parli il napoletano? Quando? In casa, con mio marito. Però con mio figlio tendo a parlare bene l'italiano. Napoletano è la lingua di cosa spontaneo, mettiamola così. Diciamo l'italiano lo parli in maniera più formale quando sei a lavoro, quando puoi impressionare qualcuno. A casa, forse in famiglia, di più il napoletano. Qualche volta ti scappa la parolina in napoletano, sicuramente. L'italiano davanti alla famiglia perché se no ci battono e a scuola... Sarebbe napoletano per ci percutono e a scuola perché è il stesso motivo, se no ci sospendono. Vabbè, io parlo napoletano solo quando mi arrabbio. Oppure quando devo scherzare e poi parlo italiano con la mia famiglia se no mi picchiano e con i professori. Ma perché vi picchiano se parlate napoletano? Perché dobbiamo essere acculturate. Lo vedono come una cosa volgare, anche se lo parlano anche loro. E allora possono noi no. Quindi i vostri genitori parlano napoletano tra di loro ma vogliono che voi parliate italiano? Tipo sono i nonni che parlano ormai soltanto napoletano e i genitori non vogliono che noi sentiamo a loro parlare napoletano. Wow! Napoletano, fra di noi napoletano. Quando siamo vicini ai nipoti parliamo italiano. Va bene. Quindi con i nipotini parlate italiano? Sempre italiano, se no le madri ci cervegliano. Ma che stai facendo? Tu e vabbè, devi parlare italiano? Va bene. No, ma anche io con i miei nipoti cerco di parlare italiano. Italiano, italiano poi insomma non sono nemmeno toscano veramente. E come ti arrabbi? In che lingua ti arrabbi? Eh va bene, qua napoletano, sicuramente napoletano. Mi arrabbio in tutte le lingue, in italiano e in napoletano. Allora, quando mi arrabbio invece parlo italiano. Io in napoletano, tranquillamente, tranquillamente in napoletano. La parolaccia se non è in napoletano non ha significato, non dà colore, non dà input alla risposta. Eh dipende da quant'è la rabbia, dipende, dipende. Più parlo in napoletano. Pensarci adesso forse, forse è più napoletano effettivamente, perché viene più dall'anima. Quando vi arrabbiate? In che lingua vi arrabbiate? Sembra napoletano. Sembra napoletano. Eh ma vabbè, sono davanti a poco. È scontata. È poco scontata, giustamente. Usciamo pure fuori limite però eh. Napoletano sì, ma non uscendo fuori da limite. Dipende poi dalla discussione, dipende. Dall'entità della discussione. Se si parla di soldi, la cosa si del genere veramente. Eh in realtà dipende, dipende dagli argomenti. Sì è vero. Qualcosa che ci fa arrabbiare di più io vado col napoletano, qualcosa che ci fa arrabbiare di meno siamo elegantemente italiani. E se un domani dovessi avere dei figli, gli insegneresti il napoletano? Sì, probabilmente sì, perché io sono napoletana, però appunto è importante sapere parlare bene sia italiano che napoletano. Non pensi sia un problema il napoletano per chi vuole parlare bene l'italiano? No, assolutamente no. Si possono fare entrambe le cose tranquillamente. No, no, no. Insegnare anche la propria lingua di nascita, quindi il dialetto insomma della propria terra assolutamente bisogna alternare, però bisogna comunque far comprendere quali sono i momenti in cui bisogna utilizzare di più il napoletano o comunque appunto quella che è la lingua del territorio di nascita e quando invece l'italiano. Però è importante trasferire entrambe le conoscenze. E secondo te dovremmo insegnare il napoletano ai nostri figli? Sì, assolutamente. Nel senso che comunque è la nostra cultura, fa parte della nostra cultura, quindi sicuramente ci sta. C'è spazio per entrambe, no? Cioè sono momenti e situazioni? C'è napoletano e napoletano, quindi ovvio c'è il napoletano quello proprio classico, quello della poesia, della canzone napoletana, quello è una lingua insomma bella, eccetera, quindi sì, quello un po' più volgare no, ovviamente. No, secondo me qualcosa sì, assolutamente, perché siamo di questa terra, appartiene alle nostre tradizioni, appartiene alla nostra storia, perché no insegnare anche qualche espressione magari non proprio diciamo troppo colorita, però sicuramente sì. Io ci tengo che mio figlio conosca anche un po' il dialetto napoletano, poi ci sarà la la formazione scolastica, è un futuro all'università, che gli daranno sicuramente l'italiano, però mi fa piacere se sa qualcosa di dialetto, appartiene alle nostre radici, alla nostra tradizione, perché rinnegarlo? Assolutamente sì, cioè io in realtà vorrei imparare un po' di napoletano antico per essere, cioè, per un senso di appartenenza, quindi sì, io lo insegnerei ai miei figli, decisamente. C'è spazio per tutti e due, italiano e napoletano? Sì, sì, cioè, ripeto, è una questione di senso di appartenenza e cioè il napoletano riesce a descrivere cose che l'italiano non riesce a descrivere e di conseguenza non è solo una questione di tradurre in una lingua, è una questione di proprio come vedi il mondo. Assolutamente sì, perché comunque è una parte della nostra cultura e chi pensa che il parlare napoletano sia volgare o non appropriato, per me sbaglia, finché è parte della nostra cultura, non va non insegnato, anche se penso che per come sono fatte le famiglie napoletane, o almeno la maggior parte, penso che venga abbastanza spontaneo, comunque sì, assolutamente. Sì, ma devono conoscere l'italiano meglio del napoletano, poi è una cosa in più. Devono parlare più italiano che napoletano, cioè... Non mi direi di parlare napoletano, più che altro, però devono conoscere bene la lingua italiana, perché... Perché sì, sono signorale. Sì, è vero. Secondo me sì, però contestualizzandolo, cioè nel senso è giusto che loro parlino sempre l'italiano, però è giusto anche che loro sappiano il napoletano e da dove vengono, perché comunque è stata riconosciuta come lingua, quindi è giusto che abbiano anche un'informazione sul napoletano. Sì, sicuramente, poi ovviamente io credo che ci sia un napoletano pulito, un napoletano un po' più sporco, diciamo, secondo me il napoletano pulito è una bellissima lingua. Quindi va insegnato? Secondo me sì, secondo me sì, un po' sì va insegnato, il giusto, non le parolacce. E voi? Avete mai sentito parlare del napoletano? Oppure se nel posto in cui vivete si parla più di una lingua, è giusto parlarne soltanto una e non anche l'altra? È tutto per oggi, alla prossima, ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti!